E si fa la valutazione band! Allora, torna a quota 103, prorogata di un anno. È ufficiale. Anche questa è di oggi. È uscita alle 4. Tutte le 4 esce. Il Salvini oppositore ha vinto contro il Salvini del governo. Per un anno, eh. Per un anno, magari l'anno prossimo, c'è la rivincita e vince il Salvini di governo. Comunque... Basta parlare di pensionati. Basta. Parliamo di intelligenza artificiale. Parliamo di giovani. Perché in Inghilterra hanno fatto una commissione per governare l'E.I. E come presidente cosa hanno scelto? Uno smanettone di 38 anni. Jan Hogarth. Laureato in computer science a Cambridge. E fonditore di due start-up basate sull'intelligenza artificiale. Poveri inglesi. Vabbè, gli inglesi ogni tanto mi fanno una tenerezza, no? Perché sono un po' ingenui, poverini. Talvolta indifesi un po' degli sproveduti. Come presidente della commissione ci hanno messo un 38enne. Ma dove cazzo vivono? Noi italiani siamo troppo più avanti. Inglesini, inglesine, cecci, guardate che ci abbiamo messo noi. Porca di una mignotta. 85 anni. Giuliano Amato sarà il presidente della commissione algoritmi. Studierà l'impatto dell'E.I. nel mercato dell'editoria. Inglesini, cazzo, svegliatevi. Bastava andare a vedere quando è nato Amato. Nel 1938 la gente si muoveva così. Cazzo, indirigibile. Ma guarda come ci proiettano nel futuro queste due immagini. Ma porca di quella zozza stronza. Che cavolo c'è Entra Amato con l'intelligenza artificiale. E no. E no. Come cosa c'entra? E no, c'entra. C'entra perché 85 anni è un ultrapensionato. Un ultrapensionato, lui per lui, è arrivato a quota 31. Ma non di anni di contributi. Di 1.000 euro mensili. A Giuliano Amato 31.000 euro di pensione e non sentirli. Era il 16 novembre 2012. Poi credo che dopo il 2012 a qualcosa abbia rinunciato perché probabilmente si sentiva un po' in colpa per averci prelevato il 6 per 1.000 dai conti correnti nel 1992. 1992 Giuliano Amato deliberava un prelievo forzoso dai conti correnti bancari. E' stato l'unico ad essere entrato come un ninja nei nostri conti correnti. Ma senza l'intelligenza artificiale. No, solo con la scaltrezza ministeriale. Comunque l'ultima volta che l'abbiamo sentito parlare è stato travisato su Macron. Non so se vi ricordate che lui ha parlato di ustica di Macron. Sentiamolo.